Rashid Wallace, come hai chiamato questa rubrica? Strange Cats, strani gatti, come Rashid Wallace chiamava gli arbitri Allora, strani gatti, prima perla di, vai Allora, per dire che Rashid è lui il gatto più strano di tutti gli altri Me sembra ovvio Nativo di Philadelphia, talento spaventoso, giocava alla Simon Gretz High School L'allenatore lo toglieva anche prima perché dava un vantaggio incredibile ai suoi E riusciva a fare comunque 16 punti e 7 stoppate di media In quanti minuti? Ah, penso in metà partita o in tre quarti Ho capito E niente, invece poi ho visto io, ho il DVD a casa, il McDonald's All American del 1993 Ragazzi, Rashid Wallace si fa espellere, l'unico in tutta la storia del McDonald's Che si prende sei falli perché il tecnico vale come sesto fallo E viene cacciato dalla partita che sarebbe praticamente lo Star Game dei liceali Che fanno ogni anno Cioè farsi cacciare via dallo Star Game dei ragazzini è il top Non plus ultra Torneremo la prossima settimana con Strani Gatti, non male, bel titolo